salve sono evano morelli della nord in biancature ci troviamo a tre vialo bergamo e ho appena terminato un appartamento vuoto abbiamo fatto i caloriferi le finestre i zoccolini abbiamo fatto abbiamo verniciato la parte superiore di questo caminetto esattamente questa parte abbiamo usato tutti i prodotti sickens abbiamo fatto la porta d'ingresso abbiamo fatto le porte un lavoro veramente spettacolare cameretta terminata abbiamo fatto questo corridoio abbiamo fatto le piastrelle del bagno la camera da letto bellissima punto di luce incredibile con la sickens abbiamo terminato questi lavori cliente soddisfatto